La bici è fondamentale per mantenere una buona forma fisica ma anche l'alimentazione. Le abitudini e le tradizioni alimentari vanno salvaguardate. Allora per farvi venire qualche nuova idea potete visitare TuttoFood di Milano. Si chiama cioco kebab, il nuovo modo di assaporare il cremino di cioccolato piemontese. Le scaglie sottili farciscoro la ciocopita, un involucro soffice e tiepido che trasforma una specialità regionale in un simpatico takeaway. Grazie a tutti. Grazie a tutti.